Un pineto travolgente spegne le velleità delle Tuscania, vince la bella e vola in semifinale. Partita a senso unico, gli ospiti restano a galla solo parzialmente nei primi due sette, persi a 19 e 21, per poi crollare nel terzo, chiuso a 14. La battuta è stata l'arma vincente, Paris ha distribuito perla ai suoi, l'Inc ha messo a terra 24 punti. Prova di cuore e determinazione, non era facile contro una squadra che nei precedenti scontri aveva dato del filo da torcere ai biancazzurri. Sono contento, abbiamo fatto una buona gara, secondo me anche lì all'andata, terzo, quarto e quinto, peccato perché potevamo chiudere la prima stasera, ma non importa. Adesso un giorno di riposo per i ragazzi e poi ci rituffiamo sui playoff per la semifinale contro Catania. Catania saranno proprio i siciliani i prossimi avversari dei Terramani. Prima gara domenica prossima al Pala Santa Maria, mercoledì il ritorno, eventuale Bella di nuovo in casa, sicuramente l'arma in più in mano ai pinentesi. Non può che essere una partita estremamente difficile, ma qui abbiamo non uno, ma forse oltre mille persone che ci spingono, quindi noi più tutti voi possiamo fare la differenza qua dentro, poi si vedrà alle prossime. Grazie.